ciao questo nuovo video che solito che faccio sui solito che faccio il mercoledì sul volume nuovo di topolino che siamo arrivati al 3564 che ho visto che in questo volume e ci sono come si dice se 77 storie che gli ultimi due storie erano magari da una parte erano collegate che che ho visto che negli ultimi volumi e questi quasi topolino ultimamente non stavano più facendo più quelle storie quelle storie a episodi collegati una con l'altra che mettendo magari quei quegli episodi uno al massimo due volumi a due episodi a volume che ci sono questi solamente in questo volume questi due gli ultimi due storie che uno da una parte mare collegate una una con l'altra queste ultime due storie che c'erano in questo volume e poi gli altri magari erano tutte trame per controllo che non erano collegate che la prima è a papers paper sena a new presenta che si chiama zio proprio nel bretella gate che quando c'è lo zio proprio anni dentro e me li magari sono le prime storie che vado mai più che altro vale a leggere che quando c'è zio paperone le tra queste trame con dentro ciò proprio di mora e mi erano mi piacciono sempre che che la storia e disegni sono di colato ma stantonale e le kine sono di zemolin e il colore di questa irene foronari che magari come storia mare ci poteva mare anche sta è la prima resta 4 con un zio paperone dentro che mi piacciono sempre le stelle storie qua con zio paperone poi la seconda e sono i pignoli pionieri nel volo che che la trama si chiama troppo lino al gancio in la vita è un una acrobazia che la storia di sergio cabella che i disegni e le kine sono luca di di questo luca usai il colore di manuel giarolli che magari a parte che magari sono tutte trame corte essendo quelle sette trame in questo volume è uno trame corte a parte ma in questa seconda trama morai e ho visto che magari certe tavole mi piacevano perché magari quando scombinano mare un po morelle proprio morelle le solite tavole che magari ti pomerai queste qua che prendono morai tre quarti di di pagina di pagina morai mi piace mi piacciono morai di più confronto morai alle solite che trovi magari che trovi su topolino tipo morai anche questi qua morai divise magari in sei in sei parti po come storia c'è questa seconda mai tra ma ci poteva magari anche sai più che altro ma anche nella parte del colore che con questi colori mai un po più accesi ma re del solito morai ci poteva morai sono sempre belle dopo come terza trama ea ea questo qua pianeta papirino l'appuntamento perfetto che ha la storia di vitro stabile i disegni sono di marco e stefano rota e il colore di mattina andronova che magari anche questa quale come trama amarelli solite che ma resi che si trovano mai qua su mai su topolino che marino con queste ma i trami su topolino non è che magari poi chiedere ma i trami ma magari così complicati poi ci potevano come trame nel mare nel compresso ci potevano magari anche stare dopo come la trama magari quella dopo ea papirino e papiroga e la riscossione porta a porta che la storia di davide ricardi i disegni di roberto vianna e il colore di ilaria castagna che anche questa camera e si amare nella trame nella trama e come disegni ma essono dei soliti che si trovano mai su qua su topolino terzo ultima trama ea questo qua il grande la grande mitologia va perché il titolo della della cui si dice della trama ea gastone giasone e il velo il velo d'oro che la storia di luca barbiere disegni di giampaolo soldati e le kine di mara angelili e il colore di francesca da miss dramis che morai e un attimino morai un po come disegni ci potevano morai anche stare questi qua dopo nelle ultime due trame a questo qua che si chiamavano tutte e due le ultime due trame erano la storia di roberto gragnon simone tempia e disegni e ricchini di carlo lì e limito e il colore di diana laudando che certi disegni tipo anche questa qua questa tavola qua con questo dago morai mi erano magari piaciute soprattutto anche morai si amare nei disegni e anche con questi morai a colori accesi e con questo morai effetto un po magari effetto morai come si dice che si vedeva magari anche l'ombra dei personaggi e questo che ci sono belle questi tipo di di disegni si amare nel colore con questo effetto effetto morai ombra su questi morai personaggi che morai che ho visto che ho visto che la parte di questi disegni di questa come si dice di questo carlo e limì e limito erano belli che con questo effetto che ha fatto diana con questo effetto effetto morai ombre erano belli queste questi disegni qua che magari erano più belli con foto morai ad altri altre 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 storie dopo con questo tra drago di questo rosso acceso ho visto che mi ha piaciuto e niente che ho visto che morai logicamente hanno già messo la copertina del del nuovo dito del nuovo topolino di settimana prossima il 3.300 e il 3.000 qui si dice 565 che questo poi ho visto che c'era anche la parte di che mettevano morai anche ultimamente dei di come magari costruire i vari passi per disegnare questi personaggi di chi si trovano mai su topolino e niente che magari la copertina di questo di questo volume qua ea di colado ma stanto no che che hanno messo sempre magari lo scherzo all'interno e lo scherzo il solito scherzo è sempre di silvia ziche che sperano che magari prossimamente magari con questi disegni effetti che hanno fatto questa diana e questa diana laudando e assieme a questo carlo lì e limido disegnano ancora assieme perché questi nelle ultime due trame magari questi disegni qua con questi effetti magari dell'ombra e questi magari colori anche accesi mi erano magari piaciuti e niente che ho visto a parte che ho visto che hanno messo anche questi volumi che trovi magari sempre in edicola della magia raccontata da topolino questo volume qua e questo è questo morai volume e volume da nuova mini collana della di paper e mitologia che c'è a pubblicità anche dietro che volevo magari andarmelo magari quando capita che vado prossima volta morai in edicola e lo trovo morai lì e magari lì do lì darò morai anche una sfogliata su questo volume morai di da mitologia che hanno provato morai a farlo anche altre o magari anche altre volte questa mitologia su questi su morai su questi volumi morai di su questi morai volumi di topolino che morai gli davo un'occhiata e niente quello che potevamo dire su questo morai volume di topolino morai l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente morai più avanti con i miei soldi morai video che porto morai sempre sul sul mio canale e niente per adesso morai vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao